Il campionato italiano a coppie è il capitolo di domenica in cui abbiamo 5 settori e si sminuisce un po' la forma di un campionato italiano. Comunque ho visto che qua a Tartano sono arrivati e hanno vinto un campionato italiano che intende il fianco o appunto colui che ha vinto con il campionato italiano che in qualsiasi posto e con qualsiasi entreti avrebbero sempre comunque lottato per il podio, per cui i vincitori non sono da diminuire in questa manifestazione. Io direi che la gente è gestata, 95 coppie, si sono andate in battaglia sulla prima salita, poi d'altronde la coppia più forte è emersa, è staccato e ha vinto con un buon distanque. Riprendiamo praticamente adesso dopo questa gara, abbiamo gli Sky Games domenica prossima in Spagna come federazione e portiamo una piccola nazionale visto che la federazione italiana che ha pochi soldi in qualche momento e portiamo tre atleti al chilometro verticale di Sky Games che sono Golinelli e Zemmer per quanto riguarda i maschi e la Cardona che ha appunto vinto oggi il campionato italiano con Miravalle, la portiamo per fare il chilometro verticale degli Sky Games. Oggi decideremo anche stasera la squadra che andrà l'otto domenica prossima a fare gli Sky Games sulla 42 km. Il campionato proseguirà domenica prossima, abbiamo la gara lunga, quest'anno il campionato è stato diviso in tre prove distinte con una poi in fase finale di combinata e abbiamo sia il chilometro verticale, sia Sky Race che Sky Marathon. La Sky Race una è già stata fatta, anche il chilometro verticale una è già stato fatto, sarebbe la prima prova di Sky Marathon domenica appunto alla sentiero 4. Dopo di questo abbiamo un anno intensissimo, io sono costretto a girare un prodotto in profondazione, oltre a avere pochi soldi e anche pochi uomini e mezzi da girare per cui giro un po' io come Giole, un po' a tutti i posti.